Ian Brady e Mayra Ingley Gli assassini della brughiera Luogo omicidi Gran Bretagna Periodo omicidi 1963-1965 Numero vittime 5 modus operandi Torturavano e violentavano le vittime Catture e provvedimenti Ergastolo Nel pieno degli anni 60 Quando i Beatles cominciavano l'ascesa verso il successo mondiale L'emancipazione iniziava a farsi strada nella società moderna L'Inghilterra conobbe un caso di cronaca Che ancora oggi viene ricordato da chi visse quel periodo Il caso degli assassini della brughiera E la storia di Ian Brady e Mayra Ingley Due personalità diverse Con due vite diverse che Quando si incrociarono Produssero un duo dagli effetti devastanti Mayra, nata il 23 luglio 1942 a Gorton Periferia industriale di Manchester Era la primogenita di Nelie e Bob Ingley Durante i primi tre anni di vita La madre fu costretta ad allevare la piccola Senza l'ausilio del padre Che era al fronte nel reggimento paracadutisti Era la nonna, Ellen Maybury Che in quell'epoca viveva con gli Ingley Ad accudire la piccola Mentre sua madre andava al lavoro Quando suo padre tornò Comprò per la famiglia una casa nuova A pochi passi da quella Dove avevano vissuto con la nonna Bob trova lavoro come manovale Ma, l'arrivo della seconda figlia Costringe Nelie a continuare a lavorare Nonostante i due lavori Era difficile accudire le due figlie Così Mayra viene definitivamente Mandata a vivere con la nonna Questo trasferimento La segnò profondamente E per il resto della sua vita E dopo aver già trascorso I primi tre anni di vita senza il padre Crede di fatti senza mai avere Una figura paterna e maschile Nella sua infanzia Comincia la scuola all'età di cinque anni È brava a scrivere Soprattutto poesie Riusciva bene anche nelle attività sportive Distinguendosi soprattutto nell'atletica E nel nuoto Viene ricordata come una bambina Più matura per l'età che ha E più sensibile rispetto agli altri bambini Che però non mancano di prenderla in giro Per via dei fianchi larghi E della forma del naso A 15 anni si ha la seconda svolta Nella vita di Mayra Conosce un ragazzino di 13 anni Michael Al quale si legherà tanto Da ritenerlo un fratello minore Quando Michael annegò in un bacino artificiale Lei fu devastata dal dolore E dal senso di colpa Per non aver accettato il suo invito D'andare a nuotare insieme Era sicura che se fosse stata Con lui avrebbe potuto salvarlo Da quel momento Mayra Diventa una ragazza chiusa Silenziosa e malinconica Veste sempre di nero E di notte va in chiesa Ad accendere candele Per l'amichetto scomparso Un'apparente normalità nella sua vita Ritornò quando Mayra cominciò a lavorare In quel periodo sembrava Una normale ragazza di Gorton A cui piaceva andare a ballare Fare le prime esperienze con i ragazzi E cominciare a truccarsi A 17 anni si fidanza con un ragazzo del posto Ronnie Sinclair Ma l'idea del futuro la spaventa Dopo il fidanzamento Sarebbe arrivato il matrimonio Una casa E dei figli Probabilmente dopo qualche anno Lei sarebbe rimasta sola in casa tutte le sere Mentre il marito andava a bere al pub con gli amici Non era questo che aveva in serbo Per il proprio futuro Così decise di rompere il fidanzamento Lei cercava qualcosa di più eccitante Così si trasferì a Londra Ma dovettero passare due anni prima Che qualcosa accadesse Due anni dopo infatti Conobbe Ian Brady Ian Brady nasce il 2 gennaio 1938 A Gorbals Uno dei più violenti suborghi di Glasgow Sua madre Peggy Stewart Era cameriera in hotel Nonostante fosse single Si firmava sempre signora Stewart A quell'epoca essere una donna non sposata Era un disonore Soprattutto se si aveva un figlio Peggy però non rivelò mai Chi fosse il padre di Ian Disse soltanto che era un giornalista Di una testata di Glasgow Morto pochi mesi prima della sua nascita Senza il sostegno economico di un marito Quindi per Peggy era necessario Continuare a lavorare come cameriera Anche se partai in me Non potendosi permettere una babysitter Spesso era costretta a lasciare il bimbo A casa da solo Rendendosi conto che però Così non poteva andare avanti Decise di assumere una babysitter A tempo pieno Che si prendesse cura di Ian E lo portasse a vivere con sé Per potergli dare tutte le cure E le attenzioni che lei non poteva dargli All'annuncio che mise sul giornale Risposero Mary e John Sloan Questi avevano quattro figli E sembravano affidabili e premurosi Così, all'età di quattro mesi Ian era un bambino adottato dalla coppia Anche se in via non ufficiale Peggy provvedeva al suo mantenimento Gli faceva visita ogni domenica Ma le visite si fecero sempre meno frequenti Finché cessarono del tutto Quando Ian aveva solo 12 anni Quando Peggy si trasferì Con il suo nuovo marito a Manchester L'ambiguità del rapporto con la madre E la natura del legame con gli Sloan Creò Ian forti crisi di identità E, nonostante tutti gli sforzi Dei genitori adottivi Rispose sempre con indifferenza Alle loro attenzioni e cure Diventò ben presto Un bambino solitario e difficile I suoi scatti di re improvvisa Erano sempre più frequenti E spesso Ian finiva Per sbattersi letteralmente Di testa nel muro A scuola era chiuso E non partecipava Alle attività sportive Con gli altri compagni E, sebbene gli insegnanti Lo trovassero un bambino brillante Non riuscì mai negli studi A 11 anni passa gli esami di ammissione Alla Shavlands Academy Una scuola per bambini altolucati E con un quoziente intellettivo Superiore alla media Nonostante le sue capacità Ian non si applicò mai Iniziò a fumare e comportarsi male E cominciarono i primi guai con la legge In questo periodo Inizia anche ad interessarsi Alla seconda guerra mondiale E soprattutto al fenomeno del nazismo Dal quale si lascia ossessionare A tal punto Che non parla d'altro Tra i 13 e i 16 anni di età Ian fu denunciato tre volte Per violazione di domicilio e furto Ma il tribunale gli concesse Di evitare il carcere Se avesse acconsentito A trasferirsi a Manchester In affidamento alla madre Peggy E dal suo secondo marito Patrick Brady Ian acconsente Ma la nuova vita Con due perfetti estranei Ed il suo marcato accento scozzese Lo fanno sentire sempre più diverso Sia dai genitori Che dai nuovi amici Così si chiude ancora di più In se stesso E si rifugia nelle sue letture Sul nazismo Inoltre scopre altri argomenti Di suo interesse Soprattutto nei testi Del marchese de Sade Trovando finalmente eccitanti I racconti di torture e punizioni La vita onesta però durò poco E Ian ricominciò con il crimine Fu arrestato per concorso In reato e favoreggiamento Fu condannato alla pena Di due anni Da trascorrere in un istituto minorile Ma Non c'erano posti disponibili Per i successivi tre mesi Così fu trasferito Alla Strandbase Prison Di Manchester Dove all'età di 17 anni Imparò velocemente A temprare il suo carattere Viene rilasciato nel 1957 E torna in famiglia Nel 1959 Trova lavoro come magazziniere Alla Milvard's Merchandising Pochi mesi dopo Viene assunta anche Una nuova segretaria Mayra Impley Per Mayra fu l'inizio Di un'irresistibile attrazione Un vero e proprio colpo di fulmine Ed ogni sera scriveva Nel suo diario Quanto Ian Fosse così misterioso E diverso dagli altri uomini Irresistibilmente attraente Con i suoi modi scostanti Purtroppo non viene ricambiata Per molti mesi Finché ad un party Natalizio aziendale Cominciano a parlarsi E Ian le chiede Di uscire con lui Al primo appuntamento La porta a vedere Il processo di Norimberga E nelle settimane seguenti La incoraggiava a leggere I libri sul nazismo E sulle torture Cosa che lei fece Senza battere ciglio Affascinata com'era da quell'uomo Ian divenne il suo primo amante E ben presto Ne fu totalmente innamorata L'unico suo scopo Era compiacerlo E ben presto Sposò anche le sue Distorte teorie filosofiche Cambiò modo di vestire Passando ad un look Decisamente più germanico Con lunghi stivali Minigonne E tinse i capelli di biondo Ha consenti a farsi fotografare In pose pornografiche E durante i loro atti sessuali Smise di andare in chiesa Quando lui le disse Che non esisteva nessun dio E la convinse facilmente Che lo stupro e l'omicidio Non erano cose malvagie Come tutti li dipingevano Nel 1963 Ian decise di mettere alla prova La dedizione Che Mayra aveva per lui E le propose di essere La sua assistente In una rapina in banca Lei avrebbe avuto il compito Di attendere in macchina Per poi fuggire Immediatamente Mayra Cominciò a prendere Lezioni di guida E si iscrisse al locale Tiro a segno Per imparare a sparare Dopo aver comprato due pistole La rapina Non avvenne mai Ma Ian ora era sicuro Di avere il totale Possesso Della mente di Mayra La notte del 2 luglio 1963 Ian e Mayra Consumavano il loro primo omicidio E i danni della sedicenne Pauline Riad Quella sera Pauline si stava recando Al ballo del club Dei dipendenti delle ferrovie Inizialmente era previsto Che ci andassi con tre amichette Ma quando i genitori di queste Non diedero loro il permesso Lei decise Che ci sarebbe andata da sola A quel ballo Non arrivò mai I genitori Non vedendola tornare Chiamarono la polizia Ma tutte le ricerche effettuate Quella notte Furono infruttuose Pauline era letteralmente scomparsa L'11 novembre 1963 Si verificò la seconda scomparsa Il dodicenne John Kilbride Era andato con un suo amico Al cinema del pomeriggio Alla fine dello spettacolo Decisero di recarsi al mercato Per guadagnare qualche spicciolo Dando una mano a sbaraccare John si trattenne un po' di più Dell'amico E quella sera Non fece ritorno a casa Per la seconda volta Ci furono ricerche Per tutta la zona Con decine di volontari Ma di John Nessuna traccia Il 16 giugno 1964 Come tutti i martedì sera Il dodicenne Kate Bennett Sarebbe dovuto andare a dormire A casa della nonna Siccome questa abitava vicino Ci andava da solo La mamma lo salutò dalla finestra Mentre attraversava la strada Ma non arrivò mai a destinazione La nonna Pensando che quella volta Sua mamma avesse cambiato idea Andò a letto E fino al mattino dopo Quando si presentò dai genitori Di Kate senza di lui La scomparsa non fu denunciata Ancora una volta Fu chiamata la polizia Ancora una volta Un bambino Era scomparso nel nulla La quarta scomparsa Avvenne il 26 dicembre 1964 Quando Leslie Andockney Dieci anni Andò con i due fratelli Ed altri amici Alla fiera cittadina Passò ben poco tempo Prima che le loro tasche Fossero vuote Decisero di tornare a casa Tutti tranne Anne Allora di cena Sua madre Ed il fidanzato Alan Iniziarono a cercarla Ancora una ricerca Palmo a palmo Della zona Con decine di volontari Nessuna traccia Della piccola Prima di arrivare Alla scoperta Delle terribili atrocità Che si celavano Dietro queste sparizioni Però Sarebbero dovuti Passare ancora dieci mesi Quando Ian Ormai sicuro del potere Che poteva esercitare Sulla mente altrui Coinvolge nel suo disegno Malato Anche il cognato E in effetti Sembrava esserci riuscito Visto che nei diari Di David Smith Il diciassettenne Neo sposo Della sorella di Mayra Erano comparse Da un po' Frasi inneggianti Al nazismo All'odio All'omicidio Ma la mente di David Smith Non era ancora Del tutto plagiata Così quando Ian Decise che era giunto Il momento Di coinvolgerlo In quello Che sarebbe stato Il suo primo omicidio La sua reazione Non fu quella sperata Era la sera Del 7 ottobre 1965 E Mayra Era andata A casa di sua sorella Per una visita Di cortesia Quando si fece Ora di tornare A casa Mayra Disse che aveva paura Di fare la strada Al buio da sola Così David Si propose Di accompagnarla Arrivati davanti Alla porta di casa Lei lo invitò Ad entrare Dicendo gli Che Ian Doveva dargli Delle miniature Di bottiglie di vino Lui Inconsapevole di cosa stesse Per accadere Entrò in casa Dove fu lasciato Solo con le sue Bottigliette Mentre Mayra Raggiunse Ian Nell'altra stanza Passò solo qualche Secondo quando David Sentì anurlare Nell'altra stanza David accorse Ed entrando Vide Ian Chinato a terra Su quello Che inizialmente Aveva scambiato Per un fantoccio Ben presto Però si accorse Che si trattava Di un ragazzo Edward Evans 16 anni Il ragazzo Giaceva disteso A gambe divaricate E si lamentava Ian era sopra di lui Con un'ascia in mano Che sollevò Per poi abbatterla Sulla testa di Edward Dopo un silenzio Di un paio Di interminabili secondi Il ragazzo Si lamentò nuovamente Ma stavolta Il lamento era debole Ian sollevò l'ascia E la battè Una seconda volta Sulla sua testa Il lamento cessò Non contento Gli avvolse Un filo elettrico Intorno alla gola E cominciò A strattonare La testa del cadavere Urlando Fottuto bastardo Subito dopo Myra preparò Una tazza di tè caldo E i due iniziarono A ridere e scherzare Sulla faccia Che il malcapitato Aveva fatto Quando era stato Colpito dall'ascia David aveva sempre Pensato che Quando gli raccontavano Delle altre vittime Erano solo bugie Invece era tutto vero Era inorridito Ma per salvarsi La pelle Finse di stare al gioco Così aiutò i due A ripulire la stanza E legare il corpo Per portarlo di sopra Alle prime ore della notte Riuscì a tornare a casa Con la promessa Di tornare il mattino Dopo per aiutarli A disfarsi del cadavere Invece arrivato a casa Visibilmente sotto shock Raccontò tutto Alla sorella di Myra Sua moglie E insieme Andarono in una cabina Telefonica Per chiamare la polizia Dopo aver ascoltato La loro storia Il soprintendente Talbò Si recò Con una ventina Di agenti In Waddlebrook Avenue Dove Brady e Inclay Vivevano E perquisirono la casa Nell'unica stanza Chiusa a chiave Trovarono il cadavere Di un ragazzo Avvolto in una coperta E l'ascia di cui Smith Parlava mentre denunciava L'accaduto Ian si difese Dicendo che i fatti Si svolsero diversamente C'era stata una discussione Tra lui Smith e il giovane Evans Smith in preda La collera Aveva iniziato A colpire il ragazzo Per poi perdere il controllo E finirlo con l'ascia Ian dichiarò Che lui aveva solo aiutato A porre rimedio L'accaduto Aiutando David A legare il corpo E portarlo di sopra In attesa Di decidere sul da far sì Che in tutto questo Mayra non aveva avuto Nessun ruolo La stessa Mayra Interrogata successivamente Confermò la storia Di Ian E fu lasciata in libertà Per altri quattro giorni Quando Nella sua macchina Furono trovati Degli appunti Che descrivevano Minuziosamente Il progetto Di quell'omicidio A questo punto La polizia Non aveva più motivo Per dubitare Delle dichiarazioni Di David Quando riferiva Delle sepolture Di altri bambini Nella brughiera Dopo aver circoscritto Minuziosamente Il territorio La polizia Iniziò a scavare Il 10 ottobre Qualsiasi dubbio Svanì con il ritrovamento Del corpo Di Leslie Andorney Dieci anni All'epoca Della scomparsa E di quello Di John Kilbride Dopo altri Undici giorni Di ricerche Furono inoltre Trovate diverse Foto in pose Pornografiche Di Leslie Andorney Deludata e legata Ed una audio Cassetta Su cui erano Registrate Le urla Strazianti E terrorizzate Della piccola Mischiate a quelle Di un uomo Ed una donna Che le urlavano Di star ferma Nel 1965 Questo era Un caso unico In Gran Bretagna Non si era mai Verificato Che una donna Fosse compice Negli omicidi A sfondo sessuale Commessi ai danni Di bambini Furono entrambi Condannati all'ergastolo Solo perché La pena di morte Era stata abolita Un mese prima E, mentre Ian Accettò da subito La sentenza Maira continuò A dichiararsi Innocente E prendere le distanze Dal suo compagno Con il quale Ruppe ogni genere Di rapporto Nel 1970 Sette anni dopo Oltre un decennio Dopo l'arresto E la condanna Maira inizia Una campagna Per ottenere la libertà Scrivendo migliaia Di lettere In cui si dichiara Innocente Per gli omicidi E vittima Della personalità Manipolativa Di Ian Alla fine Del 1986 La madre Di Kate Bennett Le scrive Una lettera In cui le chiede Di sapere Cosa fosse successo A suo figlio Da questa lettera Maira Decide di cambiare Strategia E di confessare Pubblicamente Le sue colpe E il coinvolgimento In tutti e cinque Gli omicidi La confessione Conferma i sospetti Della polizia Che i corpi Di Pauline Riad E Kate Bennett Fossero sepolti Da qualche parte Nella brughiera Anche se ormai I due assassini Non sanno più Indicare di preciso Dove Finalmente L'1 luglio 1987 Viene ritrovato Il corpo Di Pauline Riconosciuto Dal vestitino Rosa Che indossava La sera Della scomparsa Di quello Di Kate Invece Nessuna traccia Maira Inplay Dopo diversi Ricoveri In ospedale Nel corso Degli anni Muore il 15 Novembre 2002 In seguito Ad una crisi Respiratoria Acuta Causata Da un'infezione Bronchiale Ian Brevi È attualmente Ricoverato Alla Schwartz Hospital Dove viene alimentato Da una sonda Di plastica E tenuto Sotto stretta Sorveglianza Dopo diversi Tentativi Di suicidio Materiale Tratto Da serialkillers Punto It Trasformato In audiolibro Dall'eresiarca Grazie Per l'ascolto Dall'eresi 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 Dall'eresi